Ehi FeriNiki, oggi ti faccio un regalo su GTA V Uh, cosa mi devi prendere? Aspetta, una nuova arma? Lo so, una motosega? No, ancora meglio Un lancio a missile, allora Ancora meglio, un carro armato Oh mio Dio! Ehi ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stefano, che si chiama GTA V E finalmente torniamo a portare avanti anche la nostra serie sull'online Come preannunciato nell'ultimo episodio del Si può fare Oggi compreremo la bellezza di un carro armato Bellissimo, fantastico, è FeriNiki, è felicissima So che la tua giornata sinceramente non ho idea di dove lo parcheggeremo Dove starà questo carro armato Non c'è cosa più bella di dire a una ragazza Andiamo a fare shopping per comprare un carro armato Certo, bello Me lo faceste anche nella vita Perché non me lo compri? Perché costa qualche milione di euro Eh vabbè dai, io vado lì e me lo regalano Lo stai benissimo Sì certo, credici Sicuramente andrebbe così Comunque, perché ci compriamo un carro armato? Prima di tutto abbiamo usato i soldi di una car share che dà 15 euro Se mi ricordo bene perché poi dava un bonus da 375 mila Abbiamo deciso di farlo perché il si può fare, diciamo, che può essere ampliato Si possono ampliare gli orizzonti appunto con certi tipi di veicoli Che paroloni! Uno di quelli è il carro armato Quindi da ora in poi il si può fare, potremmo testare anche tante cose che hanno a che fare col carro armato Ci sembrava una cosa carina Abbiamo sempre voluto avere un carro armato sul GTA V E quindi uno più uno fa due E per i nichi è brutta Non c'entrava niente Hai rovinato tutta l'atmosfera insultandomi senza motivo Cioè sei una persona terribile, fai schifo e adesso il carro armato me lo prendo solo per me Sì credici, credici, credici Comunque visto che non ci piace semplicemente prendere le cose così schioccando le dita Vogliamo provare una cosa che ci hanno scritto per il si può fare Che ci è sembrata molto divertente E vedere se ci riusciamo in questo video proprio al volo Praticamente c'è stato proposto di cercare di rimanere per più tempo possibile sopra questa bellissima montagna russa in piedi Ok quindi senza sedersi ovviamente Esattamente, una gara tram e te così in pace amore vediamo quanto riusciamo a resistere Cadrò subito, lo sai che il mio equilibrio è molto scarso, lo sai benissimo Io spero giusto di arrivare almeno alla fine della prima salita Mi basterebbe quello come obiettivo Dai che all'inizio puoi parte lenta lenta, sarebbe ridicolo cadere subito Esatto, si parte, si parte, si parte, si parte Ok Allora, cerca di bilanciare No Tu sei ancora sopra? Sì, alle gravi No, non cadere Perché è svenuta, cioè all'improvviso È quello che è successo a me esattamente Te lo rimettete in piedi Oh mio Dio, sono coricata e continuo a farcela Sono sdraiata sopra, mi vedi niente Continuo a bastare sdraiata in un modo ridicolo Vabbè Ma questa è la cosa più divertente del mondo Però io sono rimasta più di te quindi ho vinto Voglio provarci un'altra volta Vai, vai, vai No, è fantastico Facciamo l'ultima sfida Perché io mi sono mossa, è stato un errore muovermi secondo me Meglio stare fermi e sperare che vada tutto per il meglio Non fatelo mai, mi raccomando Non fatelo mai Se andate nelle montagne Ma perché devi specificare di non fare una cosa che ovviamente nessuno fa? Perché poi qualcuno lo vede dal nostro video Ma dove? E magari gli viene in mente di stare in piedi Ma chi? Ma chi? Ma dai Mettetevi le cinture e state bene saldi Ma questo ci sale? No, questo non sale Non so perché si mette qua ogni volta L'ho visto più di una volta Ok E rimane qui a fissare Secondo me è un guardone Io te lo dico Così Lei è già etichettato Sì, esatto Guardalo, vedi che guarda È un guardone quindi E vabbè Magari sta decidendo se Puoi salire? Se ha il coraggio, capito? Però secondo me tu sei furbo Vabbè, la fine del vagone Che è meglio di stare tutto davanti Devi stare più o meno al centro secondo me Perché così hai tempo per Vediamo Vediamo Dai che poi andiamo a comprare un carro armato Sarà una fine terribile Io contro di te cara Chi dura di più Vince qualcosa E lo sai che ti puoi anche far investire? Ecco qua Hai fatto cadere pure a me Perché sei un fallito Corri, corri, corri che ce li sali Ok No No, Steph Ci sei risalita? Io la sto abbracciando, guardami Ti vedo Ti vedo ti sto seguendo La sto abbracciando Compriam Compriam Un carro armati Carin Quante cose vorrei comprare in questo sito Eh, ci credo, ci credo Cosa scegliere? Se avessi tipo 10 milioni Quale sceglieresti al momento? Perché Elenca Perché non li Aspetta, aspetta Metto il tuo monito Esatto Perché complicarci la vita Quando abbiamo le cose semplici Abbiamo la rampa baggy Che ti permette di andare dritto E far volare qualsiasi macchina davanti a te Ok Questo che Elenca Ho mai visto cosa ha combinato Questa è la cosa più tamarra mai vista Quello che va in acqua Un camper arrugginito Con mitraglietta sopra Che sembra uscito da The Walking Dead Questo non so cosa sia Facciamo finta che non esista La Ruiner 2000 Che è La macchina col paracadute È bellissima Poi E no, credo che abbia anche altre cose Mi sa che anche lancia missile E mitra Sì, ma non è troppo tamarra Per me è un po' troppo elegante Ok Vorrei qualcosa di un po' più Volte, volte, bla, bla Guarda, quella che ho conquistato Di più il mio cuore È la seconda Inoltre quella Guarda che bella Solo perché ha tutta quella cosa davanti Che non so bene poi l'utilità Credo per sbalzare E far volare tutti Esatto Quindi se è così Bellissima Però un milione e due E poi penso due milioni e cinque Con tutte altre cose Modifiche Eccetera, eccetera Mamma mia Io forse vorrei il camper Quanto costano però Io forse il camper Perché è davvero bello Non l'avrò mai Però anche tutti questi veicoli Con le torrette tipo questa Che non costano niente troppo Un milione e tre No, dai, sono tutti belli È davvero davvero figo Comunque noi Con il nostro un milioncino e mezzo Ci compriamo il carro armato Posso scegliere anche il colore? No No, dai Il carro armato deve essere così Lo vorremmo fucsia Allora, adesso Allora Speriamo che tu sia Se ho risolto il tuo scritto Sì Dove te lo metti? Esatto Non penso che abbiamo un garage Che possa contenere un carro armato È più grande della mia casa proprio Perché io sono ancora povero A livello di casa Siamo tutti e due poveri A livello di casa Tu è più bellina però Vediamo un attimino Ascolta Innanzitutto vieni a prendere Mi hai lasciato al parco giochi Da sola Arrivo Te ne sei andato Cioè Io sono qui Che noiosa Di notte Al buio, vero? Eh, ci sono persone brutte Adesso la pesto Non pestare nessuno Perché li pesto Sei tu la persona brutta infatti Non è vero Allora, il meccanico Non mi ha fatto vedere Nessun tipo di carro armato Ok Quindi Sta arrivando qualche notifica Qualche chiamata Non mi sembra No Non mi sembra Non so Da dove prendere il mio carro armato Comunque guarda questa cosa La logica di GTA V Ogni tanto è imbattibile La loro fisica È proprio Eh sì Qualcosa di spettacolare La conoscono tutti La rete di pallavolo Che non ti permette Di passarci sotto No? Con un muro Quindi se tipo Vuoi fare cambio campo Devi fare tutto il giro Non puoi passare sotto la rete Mi raccomando Esatto Anti-invasione I muri invisibili Su GTA sono ovunque Esatto Non puoi invadere il campo Forse hanno trovato la soluzione Per evitare le invasioni di campo Esatto Noi ci vediamo Esatto Però è una cosa serissima Hai ragione Hai ragione Assolutamente Allora Quindi Bando alle ciance Vediamo un pochettino Veicoli Richiedi veicolo personale Io sono andata a controllare Se l'assistente Poteva evocarci Il carro armato Sembrerebbe di no Ma Ferinichi Su internet ha trovato Che basta chiamare Il Pegasus Bla 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 La Pegasus La Pegasus Qualcosa E te lo dovrebbero portare Alla tua posizione Allora Quindi prova E vediamo Mi hai rubato È bello L'hai lasciata lì È bello Vero a me Ammettilo Che è troppo figo Quel veicolo Allora Quindi Non spaccarmelo Ti prego No perché lo spaccheresti Non sei guidare Ma tanto lo puoi aggiustare No ma lo sai che sei scarsa a guidare Ecco qua Allora L'impari Seleziona un veicolo Ok Il tuo veicolo speciale Già spegnerebbe per il tiro Speriamo che sia di tuo gusto Lo sarà Lo speriamo anche a noi Dimmi dove Oh mio dio Dov'è Dov'è Spostati 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 Dove ce l'hanno messo Ma ci sta prendendo in giro Aio Cioè io non vedo car Vediamo nella spiaggia Aspetta Esatto Prima di urlare Sbraitare Fammi vedere verso la spiaggia Ti prego Sì Non so perché Ce l'hanno parcheggiato Ma dove Aspetta che mi lancio Mi mezzo alla spiaggia Aspetta Sto scendendo in retromarcia alle scale Non mi hai visto Ma perché mezzo alla spiaggia Che poi i civili si spaventano Oh mio dio Meraviglia È solo da un posto Boh Prova a salirci Che pacco però Prova Perché cosa Io voglio salire Prova magari Solo da un posto Io ho letto che da un posto Però Non lo so E se hai letto che da un posto Che pretendi Prova ad arrampicarti dietro Così comunque vedrai la potenza Ci sono Vado Sì vai Allora cosa facciamo a esplodere Ma mi fai cadere Quando muovi la cosa Allora metti il mio schermo Facciamo un giro Uffa Che delusione E poi lo provi tu Ok 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 Ci sta vai Allora E prima di tutto No voglio provare ad investire Una macchina Oh Mio Dio Sono già innamorato Cioè ci basta Eh non riesco più a dirlo Basta passarci sopra Ed esplodono Io vado a sposarmi Col mio carro armato Adesso Tu sai Non sai che quando ero piccolina Io Guarda Ascolta Ti racconto sta cosa Sì dimmi È a tema Non devo dire una stupidata Ok Quando ero piccolina Io giocavo a un gioco Di carro armati In cui praticamente Facevi così Non mi ricordo il nome Se qualcuno lo conosce Ditemelo Perché ero totalmente Innamorata di sto gioco Io ero piccolissima E praticamente tu eri Un carro armato Ok In questa città E dovevi distruggere tutto Mi spieghi Che senso ha raccontare Una cosa del genere Mentre distruggo la città Perché ti voglio Ti voglio far capire Oh Oh mio dio Quello era un elicottero Cara Ti voglio Guarda Ho una domanda Dimmi Quando prima o poi Riusciranno a distruggermi A farmi esplodere Tutto Ok Cosa succederà Nel nostro veicolo Cosa succede Non lo devo ricomprare Vero Lo vedi l'elicottero In fondo Sì Però non è morto Aspetta Ok Ok Ottimo Ottimo Perfetto Che bello Vai è arrivata la sua volta Cinque stelline per Steph In quanto? E si è morto Ti si è fatto esplodere Vabbè vabbè Ok E quindi io adesso appunto Ho distrutto il carro armato E chiamo di nuovo la Pegasus E ci faranno Certo Steph Tieni di nuovo il carro armato Sicuramente Per 200 dollari Giusto? Ok 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 Mi stavo già arrabbiando Perché come ti ho dimostrato Io i carri armati C'ero nel sangue Dato che giocava i giochi E tu invece no Quindi capito 200 dollari 200 miseri dollari E di nuovo nello stesso punto Girati e vai Sto seguendo la tua scia di distruzione Per capire No ma devi girarti e andare dall'altra Ah ma di nuovo E di nuovo lì Io non so perché ce l'ho parcheggiata Sono in spiaggia Volevo dire che un sacco di voi ci consigliano Ne si può fare Di fare delle cose Con i camion Questi qua Che si possono aprire Gli sportelli Ma nell'online Ragazzi abbiamo provato 2000 video E non riusciamo Ad aprire Neanche seguendo le istruzioni Di quei video Non riusciamo Ad aprire Lo sportello E quindi E a fare tutte le cose Fantastiche Che ci suggerite Non si possa fare Solo nel single player Esatto Allora nell'online Si poteva fare Perché io ho visto Dei video a riguardo E l'avranno fissato Ho paura che Ti devo dire una cosa importantissima L'hanno sistemato Dimmi Non c'è il carro armato Davvero Non c'è Aspetta Lo vedrei se ci fosse Non c'è Continua con le tue cose Dicendo che non riusciamo Ad aprire gli sportelli Dei camion E quindi E tu mi prendi in giro Per le storie dei carri armati Capito Sei peggio di me Almeno la mia era interessante Almeno questa è importante E di rinerenti i carri armati La sua manco quella Capito Questa è importante Per le serie Perché comunque Un sacco di gente Ci propone cose carinissime E noi non le possiamo fare E adesso butta la tua macchina in acqua Ma non provarci Te la lancio in acqua Allora Se fai una cosa del genere Non siamo più amici Ho già fatto Te la vai a prendere in mezzo all'oceano Stai scherzando? No Te l'ho buttata lì Guarda devi sperare Che non ci sia il carro armato Quando arrivo Eccola Forse Forse Avevo ragione Ci divisseri tu Te lo sto lasciando Quindi Quanto meno Non mi ammazzare Che bello In acqua lì Davanti a te La vedi Lì sto Con la cosa arancione La prima cosa che ho fatto Con il carro armato E' uccidere Allora Allora Cioè ci credi Che le reti di pallavolo No Non mi far esplodere T'ammazzo T'ammazzo Non mi far esplodere Mi ha mancato Ma come fai a mancarmi Tutte queste volte? Perché è difficilissimo Prendere una persona Ti dicevo Ti faccio vedere una cosa Allora se ti calmi Te la faccio vedere Guarda Guarda le reti di pallavolo Sono a prova di carro armato Puoi distruggere tutto Tranne le reti di pallavolo Di beach volley In questo caso Mamma mia Allora dai vai a farti il tuo giretto Io cerco di seguirti con una macchina Basta che mi fai esplodere la macchina Ok Perché altrimenti i consolini Non vedranno le tue gesta Quindi non esplodere Quelle due parcheggiate Ti sei? Sì sì vai 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 Adesso ti raggiungo Ho tanto una macchina Devi mostrare le mie gesta Se no nessuno ci crede Che io giocavo al gioco di carro armati Capite? Ok Come minimo devi arrivare a 5 stelle Anche se ti ho indebolito Con due missili E quindi teoricamente Esploderai molto presto Ti consiglio di ammazzare più polizia che puoi In fretta Allora cosa stai facendo? Facendo esplodere tutto quello che è davanti Sì ma schia... Oh che bello Fare esplodere le macchine a polizia Volano proprio Schiacciale anche Perché è ancora più bello Schiacciale e soprattutto E fai esplodere gli elicotteri Che è la cosa Secondo me è più gratificante Vattene Mi stai disturbando Vedi? Boom secco Ciao Mi stai disturbando E' meglio dei lanciamissili comunque Sì Allucinante Schiaccia la polizia Non ci riesco Aspetta questa questa Il furgone Vai Lo schiaccio lo stesso L'ho carbonizzato totalmente Sto iniziando a prendere fuoco Secondo te è normale? No Che scafumo dal mio caro armato Purtroppo no Quindi diciamo Goriti gli ultimi momenti Col tuo carro armato Perché stanno per finire Quello è seduto lì Lo faccio esplodere Ok Va bene Perché mi dava fastidio A quante stelle sei? Quattro? Quattro sì Ok Allora devo fare esplodere Qualche altro elicottero Dove sono gli elicotteri? In alto In alto Vai A distanza Uno Ah peccato Dicevo è valso tutti i soldi spesi È bellissimo Sì Il veicolo più emozionante Non l'avevo mai provato Il carro armato di GTA Perché sono sempre stata povera In questi giochi Anche io Avevo l'appartamento fighissimo Ma non i veicoli fighissimi Vabbè ma perché Quello lo degravano Con proprio l'acquisto del gioco Esatto Con l'altro account Prima ovviamente di riniziare Per la nostra serie dell'online Perché questi sono riniziati da zero Quindi non li avevo mai provati Sono felicissimi Sono un po' balli Comunque consigliateci nei commenti Tante cose da provare con i carro armati Allora Gianni avevo visto Stai dimenticando una cosa Il tatuaggio Tatuaggio Andiamo a fare un tatuaggio Su un carro armato Dicevo che uno ad esempio Per farvi avere già delle idee pazze Che ci è stato proposto Di fare col carro armato E di prendere un carro armato Ok Farlo andare in alto Con un cargo bob Farlo cadere sopra una macchina E far esplodere la macchina Ottimo Sarà la cosa più bella Di sempre Chiama Lester Oh che noia Hashtag I tatuaggi di GTA Fanno schifo Non c'è un singolo tatuaggio Con un carro armato Io non capisco Come si sono permessi A rovinarci il tatuaggio Ma perché Poi dai I carro armati Sono dei must have Di GTA Esatto Perché Io capisco le cose Che facciamo noi strane Che poi non ci sono Ma un carro armato Comunque ci mettiamo Un drago fiammeggiante Che simboleggia le fiamme E l'esplosione Del carro armato Che ha creato il carro armato Oggi Dai Secondo me Ci sta Così abbiamo tutti e due Polpacci fatti Siamo quasi colpo completo Ma sta diventando sempre più difficile Perché GTA ne ha pochi Il nostro corpo è tutto occupato Ormai non saprei più Dove metterne uno Vabbè magari Magari poi quando saremo Totalmente pieni Li faremo solo Per le occasioni speciali Esatto Eliminando i meno importanti E così via Esattamente Sono d'accordo Comunque direi di fermarci così Quindi nei commenti Consigliateci tante cose Da fare con i carri armati Così ci divertiremo tantissimo Usare il nostro Rino Ha pure un nome carino Sembra un animaletto Sembra un animaletto Che però ti spacca in cinque Come piacciono a me Bene che ci successe Giusti Ci succedeci Mi like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao